Frittatine ripiene al pomodoro, mescola in una ciotola uova, formaggio, sale, pepe, latte e prezzemolo tritato. Prepara le frittatine all'interno di una padella, un tà d'olio, una alla volta, devono cuocere giusto qualche secondino per lato. Farciscile come preferisci, ho usato della scamorza e del prosciutto cotto, arrotola bene e adaggia le frittatine all'interno del sughetto di pomodoro che hai preparato in precedenza. Fatele cuocere ancora per 15 minuti ed eccoli qui, le frittatine sono pronte, provatele con il pane, ciao!